Musica Non si ferma all'alto dei carabinieri a Trapani, scappa e distrugge il vetro della gazzella, in manetta un pregiudicato. Perseguita la fidanzata di 16 anni, denunciata a Marsala dalla madre della ragazza. Al comune di Mazzara trasformazione di 23 contratti part-time in full-time. Weekend sportivo della tredicesima giornata di eccellenza. Vince il Mazzara 46, altra sconfitta per il Mazzara. Buongiorno e buon inizio settimana amici di Teleotto. Apriamo il nostro lunedì con la consueta informazione sul canale di Teleotto. Apriamo con una notizia che ci è appena aggiunta dalla regione dei carabinieri Sicilia. I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo, durante i servizi di controllo eseguiti nello scorso fine settimana, unitamente carabinieri del XII Regimento Sicilia, hanno denunciato un 27enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché a seguito di perquisizione personale veniva trovato con involucri di sostanze del tipo marihuana. Otto persone, inoltre quattro italiani e quattro stranieri, tra età compresa tra i 20 e 35 anni, sono stati denunciati per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, poiché dopo una perquisizione personale sono stati trovati in possesso di bastoni, coltelli a serramanico ed una pistola ad aria compressa. Inoltre un 43enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, che sono state sottoposte a sequestro, e tre persone del luogo, due italiani e uno straniero tra i 41 e 59 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il 41enne è inoltre risultato positivo all'assunzione di estupefacenti. E come abbiamo detto nei titoli, non si è fermato all'alte dei carabinieri e scappando ha distrutto un metro della gazzella. Ascoltiamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un 33enne del luogo gravato da pregiudizi di polizia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I militari dell'arma, nel corso di un posto di blocco nei pressi dello stadio, hanno intimato all'uomo di fermarsi. L'uomo dapprima avrebbe rallentato per poi accelerare, dandosi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento per le vie del centro, che ha richiesto il supporto di altre pattuglie dell'arma nel centro cittadino. L'uomo, vistosi bloccato, ha abbandonato l'auto ed è fuggito a piedi, venendo poco dopo raggiunto e fermato. Nelle fasi successive all'arresto, l'uomo avrebbe continuato ad opporre resistenza, minacciando i carabinieri e danneggiando con dei calci un vetro dell'autoradio. Dagli accertamenti eseguiti, lo stesso sarebbe risultato privo di patente di guida e con revisione e assicurazione non in regola. A seguito dell'udienza di convalida è stata applicata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. Ancora cronaca, 18 denunce per furto di energia elettrica a Palermo dopo i controlli dei carabinieri della stazione di Palermo Villa Grazia del XII Reggimento Sicilia, assieme ai tecnici dell'Enel. Sono tutte domiciliate nel quartiere Bonagia. Le loro abitazioni, sprovviste di contratto di fornitura per il servizio elettrico, sarebbero state connesse abusivamente alla rete, annullando quindi totalmente la spesa dell'utenza. Tutti gli indagati, oltre ad essere chiamati a pagare il consumo stimato, risponderanno di furto aggravato con pena prevista in caso di condanna dai due ai sei anni di reclusione. E nella campagna di prevenzione e controllo del territorio e contrasto al traffico di stupefacenti, la Polizia di Stato di Alcamo ha arrestato due cittadini extracomunitari. Si è conclusa positivamente ad Alcamo la campagna di prevenzione e controllo del territorio e di contrasto al traffico di stupefacenti, predisposta nei giorni scorsi, che ha portato all'arresto di un giovane cittadino extracomunitario irregolare e alla cattura di un cittadino marocchino, anche egli irregolare, ricercato da oltre un anno poiché destinatario di un ordine di carcerazione. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Alcamo durante un servizio di osservazione in pieno centro storico in una zona di ritrovo e principale piazza di spaccio di sostanze stupefacenti hanno individuato un giovane pregiudicato Gambiano, noto alle forze di polizia che si aggirava con fare sospetto. Quest'ultimo, una volta riconosciuti gli agenti, ha tentato in vano una breve fuga prima di essere bloccato. Nella circostanza, il giovane Gambiano è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish. Considerati i precedenti specifici, gli agenti di polizia hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare nel luogo di dimora del cittadino extracomunitario, rinvenendo circa 105 grammi di hashish. Gli strumenti necessari al taglio e al confezionamento dello stupefacente, oltre a un'ingente somma di denaro in banconote di piccolo taglio. L'uomo è stato tratto in arresto e collocato in regime di arresti domiciliari. La misura è stata poi convalidata dal giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura dell'obbligo di dimora. Sono state inoltre avviate le procedure finalizzate all'espulsione dal territorio nazionale dello straniero irregolare. Inoltre, nell'ambito della medesima attività di controllo, si è arrivati alla cattura di un cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina ricercato da più di un anno, poiché destinatario di un ordine di carcerazione a seguito di condanna in via definitiva per diversi furti in appartamento commessi nel comune di Alcamo. L'uomo, rintracciato all'interno di un edificio abbandonato, è stato anche trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 4 grammi. Dopo le formalità di rito e latitante, è stato associato alla casa circondariale di Trapani. Ed ancora un servizio a Marsala. Un 22enne costringeva la fidanzata minorenne a videochiamate per monitorarla. è stato denunciato. Controllava ogni suo movimento costringendola ad estenuanti videochiamate per sapere costantemente dove e con chi fosse. La perseguitava con domande continue sulle precedenti relazioni, la insultava, la instigava al suicidio e minacciava la sua famiglia. Entrava nel registro scolastico telematico per conoscere le lezioni che frequentava. Le proibiva di andare a passeggio con la madre. Mesi di stalking quotidiano che sono costati a un 22enne di Marsala la misura del divieto di avvicinamento alla fidanzatina sedicenne. La ragazza era totalmente plagiata e in preda a costanti crisi di ansia, una delle quali ad aprile scorso la costretta a un ricovero urgente al pronto soccorso dell'ospedale di Marsala, dove i medici le hanno diagnosticato una crisi dovuta all'agitazione. La vicenda, accertata dalla procura di Marsala, l'inchiesta è stata condotta dagli agenti del commissariato di polizia della città, è emersa solo perché la madre della giovane vittima, anche lei minacciata dal ragazzo, ha presentato denuncia. La donna, terrorizzata dallo stato di soggezione psicologica della figlia, si è rivolta agli investigatori. La vittima, invece, sentita dagli inquirenti, ha sempre tentato di minimizzare i fatti. L'indagato avrebbe spinto la fidanzata a violare le regole scolastiche che le imponevano di lasciare il telefono prima dell'inizio delle lezioni, proprio per poterla controllare, e avrebbe tentato di ricattare la madre della giovane dopo aver scoperto che consigliava alla ragazzina di interrompere la relazione. Sentita dalla polizia, la donna ha definito malata la relazione della figlia con il 22enne perché compromessa da una grave forma di gelosia patologica che aveva infine indotto la figlia ad isolarsi del tutto dal mondo circostante, rinunciando ad ogni amicizia, alla benché minima vita di relazione, e determinando scarsi risultati scolastici, costretta come era fin anche a disertare la scuola. Al riscontro delle accuse della madre, le dichiarazioni della preside della scuola, i messaggi telefonici che la donna era riuscita a leggere. Cambiamo decisamente argomento. L'Associazione Panificatori di Marsala, aderente al CNA Trapani, comunica che i panifici di Marsala resteranno chiusi nelle giornate di venerdì 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, nella giornata dell'1 gennaio, oltre al 6 e il 7. Saranno invece aperti sia nella giornata del 24 che in quella del 31 dicembre. Spostiamoci adesso a Mazzara del Vallo, dove venerdì scorso al Comune si è registrata la stipula di tre contratti a tempo indeterminato. Si tratta di tre dei quattro istruttori socioeducativi assunti con procedura di stabilizzazione, due a tempo parziale, 18 ore settimanali, e due a tempo pieno. Hanno già firmato il contratto Giovanna Di Gregorio, Valentina Barracco e Valeria Guida, mentre nella giornata di oggi verrà contrattualizzata a tempo indeterminato Viviana Giacalone. Andranno a potenziare le servizio politiche e sociali, nel quale hanno già operato, nell'ambito delle attività del distretto socio-sanitario 53 e dei progetti SIA. E sempre a Mazzara del Vallo sono stati trasformati 23 contratti part-time in full-time. Completata la trasformazione in full-time, 36 ore settimanali, dei 23 dipendenti comunali di Mazzara del Vallo, che erano ancora contrattualizzati part-time, 25 ore settimanali. Si tratta di due istruttori amministrativo contabile, 16 esecutori operatori specializzati e 5 operatori tecnici. Venerdì scorso, nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani, sono stati sottoscritti i relativi contratti di lavoro trasformati in full-time, seguito dello scorrimento delle graduatorie, alla presenza del sindaco Quinci, degli assessori Emmola e Billardello, del dirigente del settore personale marino e del funzionario responsabile provenzano. E l'ultima tranche di ex-contratti e articolistiche, dopo l'assunzione di ruolo, attraverso le procedure di stabilizzazione conclusesi nel 2018, non avevano ancora ottenuto la trasformazione full-time dei loro contratti. In precedenza, erano stati 81 i dipendenti part-time, ora a tempo pieno. Il sindaco Salvatore Quinci, nell'esprimere gli auguri al personale, ha sottolineato la soddisfazione dell'amministrazione di avere concluso la trasformazione in full-time di tutti i contratti dei dipendenti comunali ancora part-time, a conclusione delle procedure di evidenza pubblica rispondenti ai fabbisogni del personale dell'ente. Nella stessa giornata è stato inoltre sottoscritto un nuovo contratto di istruttore amministrativo contabile a seguito dello scorrimento di graduatoria della procedura di progressione verticale. Sul fronte del personale si registrano altre novità. è stato definitivamente trasferito con decorrenza da venerdì scorso allo IACP di Caltanissetta il funzionario comunale architetto Vincenzo Montalbano a seguito di una procedura concorsuale di mobilità volontaria ottenendo il nulla host al trasferimento. Sul fronte delle procedure assunzionali oltre alla pubblicazione dell'avviso per il conferimento di un incarico di dirigente a tempo determinato si registrano due procedure in itinere. La stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale di due istruttori direttivi socioeducativi e la procedura di mobilità per l'assunzione di due agenti di polizia municipale. Nella storica cornice del Teatro Garibaldi si è svolto sabato il corso formativo gratuito per biologi e i professionisti sanitari dal titolo Il biologo, il futuro della nostra professione. L'evento, diretto dalla dottoressa Stefania Aiello ha raccolto un grande successo coinvolgendo colleghi e trattando argomenti che hanno spaziato dalla nutrizione alla ricerca dall'ambiente alla sicurezza alimentare. Il teatro, insieme a tanti professionisti ha ospitato anche il tesoriere della FNOB Diego Virgone il presidente dell'Ordine dei Biologi di Sicilia Alessandro Pitruzzella il consigliere Ghetano D'Amico e la consigliere Vita Fabiola Martinico. E sono state sbloccate 500 assunzioni per i centri dell'impiego siciliani e negli uffici della regione. Si sbloccano finalmente le assunzioni nell'amministrazione regionale per quanti erano in attesa di concludere le procedure concorsuali. L'approvazione dei documenti economico-finanziari della regione consentirà l'immissione in ruolo di oltre 500 persone. A partire da domani 5 dicembre i vincitori saranno chiamati per firmare il contratto e il loro ingresso ci permetterà di rinforzare l'organico dei centri per l'impiego e degli uffici regionali in sofferenza. Lo dice il presidente della regione siciliana Renato Schifani commentando il fatto che grazie all'approvazione del bilancio consolidato 2022 all'Ars si è potuto dare corso alle assunzioni già programmate. Tra gennaio e febbraio 2024 con il reclutamento dei neoassunti l'amministrazione regionale potrà contare su 511 nuove unità lavorative tra personale assunto con il concorso per i centri per l'impiego nei profili professionali IAC, istruttore amministrativo contabile e OML, istruttore operatore mercato del lavoro a cui si aggiungono 76 unità che saranno assunte per scorrimento delle graduatorie dei bandi finanziati con risorse regionali. Abbiamo rispettato un impegno assunto dal governo regionale dice l'assessore della funzione pubblica Andrea Messina e siamo felici di avere contribuito a dare nuova linfa a un'amministrazione affannata per via della scarsità di personale. L'impegno è quello di riuscire nell'arco di pochi anni a restituire slancio a tutti i rami della pubblica amministrazione con personale numericamente adeguato e competente. E sempre a Mazzara del Valla a causa di un vizio procedurale legato alla mancata informazione preventiva delle organizzazioni sindacali la deliberazione numero 173 del 2023 sulla riorganizzazione dell'ente comune Mazzara varata giovedì 30 novembre è stata revocata dalla stessa Giunta. L'articolo 4,5 del contratto collettivo nazionale di lavoro dispone infatti che sono oggetto di sola informazione alle organizzazioni sindacali gli atti di organizzazione degli uffici e che tale informazione deve essere resa almeno 5 giorni lavoratori prima dell'effettiva adozione degli atti. Poiché invece l'informazione sulla riorganizzazione degli uffici è stata resa solo successivamente mentre l'approvazione dell'atto l'Aggiunta ha deciso di revocare la deliberazione fermarestando comunque la volontà di confermare i profili e le determinazioni già assunte nonché i contenuti e le scelte organizzative degli uffici e dei servizi già definiti. E questa mattina negli studi di Teleotto ci è venuto a trovare il neocoordinatore provinciale dell'Udc Giovanni Battista Quinci. Abbiamo accettato l'incarico che ci ha dato il coordinatore regionale dei Cioterranea come responsabile provinciale del partito dell'Udc un partito con cui ho militato da sempre quindi nell'ultima elezione che ho avuto con questo partito risalgono quasi a vent'anni fa e quindi siamo rimasti sempre lì non ci siamo mossi noi democristiani. L'incarico avuto anche a livello nazionale da Cesa mi porterà a organizzare o a riorganizzare il partito che ormai diciamo dopo le ultime vicende regionali come tutti sappiamo è rimasto poco e niente. Quindi la riorganizzazione del partito parte da Mazzara del Vallo in particolare perché poi ci affrettiamo alle elezioni comunali e in tutta la provvisa di Trapane. Ci rifacciamo noi alla dottrina cristiana della Chiesa e porteremo avanti questi valori dei cattolici ed europearisti. La prossima settimana inizieremo la campagna di adesione per quanto riguarda i soci o gli amici che vorranno fare parte di questo partito per poter strutturare e organizzare e portarli per la prossima campagna elettorale. Il mazzarese il professor Angelo Ditta membro dell'Accademia Selenuntina con la collaborazione del dottor Salvatore Surdo dell'Università di Palermo anche quest'anno per il quarto anno consecutivo è presente sul Sicilian Naturalistic News con tre nuove scoperte di insetti dell'Ordine dei Dittari ordine che comprende mosche, zanzare, sirfidi eccetera mai segnalati per la Sicilia in particolare il professor Ditta ha trovato lungo le sponde del fiume Mazzaro una specie moschina di 3 mm l'eptometopa latipes la cui presenza era stata segnalata da approfonditi studi molecolari nel sarcofago di Federico II tutti i ditta ritrovati nel nostro territorio dal professor Ditta sono conservati grazie alla collaborazione del dottor Paul Buch del Nature Historic Museum di Mastricht nei Paesi Bassi il professor Ditta non è nuovo nel mondo delle ricerche negli ultimi 5 anni ha già scoperto 5 specie di antropoli nuovi per l'Italia e altre 20 specie nuove per la Sicilia e sabato sera in occasione dell'Assemblea di Ocesana c'è stata la consegna degli orientamenti per l'anno pastorale ascoltiamo ma stando appunto a quello che dice il Papa penso che una buona ripartenza sia dal rimettere davvero al centro della vita delle nostre comunità la capacità di essere comunità che sappiano ascoltare intanto l'ascolto di Dio che parla attraverso la storia di tante persone di tante situazioni ma poi anche un ascolto che la comunità cristiana deve poter prestare come luogo in cui la comunità si rende presente nello spazio in cui essa è chiamata ad operare e poi anche una comunità una comunità ecclesiale che sa costruire anche relazioni attraverso l'ascolto l'esperienza che stiamo facendo in fondo in questi ultimi due anni attraverso il cammino sinodale ci sta facendo riconoscere come ci sia bisogno intanto di riconquistare questa grande ricchezza che l'ascolto nella vita in genere ma poi anche nella vita delle comunità porta e quindi io ritengo che in questa ripartenza faticosa anche a causa appunto della pandemia rimettere al centro l'ascolto significa in fondo rimettere al centro la relazione con l'altro nelle diverse dimensioni perché intanto per un credente la relazione con Dio è quella che fonda tutto il resto ma poi in qualche modo è anche decisivo imparare come l'esperienza cristiana si gioca nelle relazioni non può prescindere da questo adesso direi la parola futuro devo ringraziare gli adolescenti e i giovani con i quali mi sono incontrato più volte durante la visita pastorale che mi hanno dato la loro preoccupazione mi hanno contagiato la loro preoccupazione per il futuro per cui mi sono interrogato sul dopo visita pastorale e quindi sull'inizio del nuovo anno il primo dopo la visita pastorale quale potesse essere l'attenzione della chiesa locale e ho detto ma devo per forza pensare al futuro cercando di mettermi con la sensibilità con le attese del mondo giovanile e siccome il mondo giovanile è un mondo che cresce prevalentemente solo quindi che non ha opportunità di essere ascoltato forse né dalla scuola perché ci sono i programmi da portare avanti né dalle famiglie perché magari ci sono sempre gli impegni delle famiglie né in generale da altri luoghi che tradizionalmente erano i luoghi pedagogici della trasmissione oggi si parla di non luoghi e allora questo mi ha fatto pensare che la chiesa deve essere in ascolto anzitutto di quelli che hanno timore paura incertezza circa il loro futuro e per essere in ascolto non deve soltanto fare un'operazione come devo dire di avvicinamento occasionale di essere in ascolto significa scendere sulla strada vivere sulla strada insieme con le nuove generazioni questo è quello che ho voluto indicare anche per questo nuovo anno anche con gli orientamenti pastorali consegnati alla diocesi e mi auguro che in modi diversi attraverso le ministerialità cioè i servizi più diversi noi riusciamo ad essere in ascolto non soltanto dei giovani che hanno qualche problema chi per esempio quelli che hanno problemi di ludopatia o hanno problemi di che devo dire stiamo incontrando ragazze che hanno problemi di dipendenze o di disturbi alimentari ma anche e soprattutto vorrei dire di quei giovani che in generale guardando il futuro sono incerti non sanno come potrà andare e lì la chiesa deve essere in ascolto e apriamo la pagina sportiva fra sabato e domenica si è disputata l'ottava giornata del campionato di serie B di calcio a 5 la formazione del Mazzara si conferma l'unica imbattuta del campionato con una netta vittoria in quella di Soverato ma leggiamo tutti i risultati Arcobaleno Ispiga Bovalino 3 a 1 Dragoci Reale Soverato 4 a 0 Marsala Futsal scusatemi Villauri a 4 a 3 Soverato Futsal Futsal Mazzara 5 a 7 Adrano Barcellona 4 a 5 Mistral Meeting Club Carini Città di Gela 5 a 1 la classifica vede sempre al primo posto il Mistral Carini con 21 punti Mazzara e Soverato Futsal a 16 Marsala 14 punti Adrano 13 Arcobaleno Ispiga 11 Villauri e Blinking Soverato 10 assieme al Barcellona Bovalino e Drago Cireale 7 chiude la classifica il Gela con un punto e sabato pomeriggio ci sarà proprio uno scontro al vertice nel campionato di calcio a 5 di Serie B il Mistral Carini capolista del campionato farà visita al Mazzara Futsal presso il palazzetto dello sport di contrada a facciata e continuiamo con le notizie sportive presso il palazzetto dello sport Palaberti di Barcellona Pozzo di Gotto si sono svolti i campionati regionali cadetti parlando di tesseramento e i campionati juniors e senior delle scinture colorate i fighter Teuandu diretti dalle maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno sono andati alla conquista di prestigiose medaglie nella categoria cadetti hanno conquistato 4 medaglie d'oro con Erika Russo Adele Monachella Vittoria di Alcantari e Mattia Monteleone un argento per Luca Lucia nelle categorie juniors tre medaglie d'oro con Davide Gallo Leonardo Errando Mazzarino e Ignazio Valfrè una medaglia d'argento con Francesco Clemenze ed un bronzo per Francesco Catalano mentre per la categoria seniores Angelo Cutrone ha preso la medaglia d'argento è un doppio colpo di mercato spostiamoci al calcio per l'FC Marsala che ufficializza l'acquisizione delle prestazioni sportive dei centrocampisti Vito Bono e Diego Cenciarelli Vito Bono mazzarese classe 88 ha vinto nella scorsa stagione il campionato di promozione con la Folgore di Castelvetrano mentre Diego Cenciarelli classe 1992 nato a Uberti Ed è un play mancino di centrocampo e prima di salutarci vi ricordo che vi lascio con le immagini della tredicesima giornata del campionato di eccellenza una nuova sconfitta per il Mazzara al Nino Vaccare quindi vi lascio con le immagini mentre l'approfondimento sportivo lo potrete seguire più tardi nella nostra emittente con gli approfondimenti sportivi a cura di Gianfranco Vultaggio Si è conclusa ieri pomeriggio la tredicesima giornata del campionato di eccellenza Girone A Sicilia che vede impegnate quest'anno diverse squadre della provincia di Trapani Mazzara Unione Sportiva Mazzara 46 Folgore Calcio Castelvetrano Accademia Trapani e Fulgatore e Castellammare Calcio 94 Questi i risultati del weekend Aspra Mazzara 46 1 a 2 Casteldaccia Profavara 0 a 1 Folgore Athletic Club Palermo 1 a 1 Marineo Geraci 1 a 1 Sciacca Accademia Trapani 3 a 0 Fulgatore Castellammare 2 a 2 Mazzara Misilmeri 1 a 2 Castelbuono Nissa 0 a 1 Questa è la classifica Nissa 37 punti Profavara 31 Unione Sportiva Mazzara 46 30 punti Castelbuono 21 Sciacca e Castellammare 19 punti Marineo Folgore Athletic Club Palermo 16 punti Geraci Accademia Trapani 15 punti Casteldaccia 14 Misilmeri 12 Mazzara 8 Aspra 7 Fulgatore 6 Prossimo turno 14esima giornata Athletic Club Palermo Castelbuono Castellammare Folgore Profavara Sciacca Misilmeri Aspra Fulgatore Accademia Trapani Geraci Casteldaccia Nissa Mazzara Mazzara 46 Marineo Amici sportivi Un cordiale saluto da Luca Di Noto Dallo stadio Nino Vaccara Di Mazzara del Vallo Dove quest'oggi si sfideranno Si daranno battaglia a Mazzara E Don Carlo Misilmeri Dirige l'incontro Il signor Rosario Pavano Che ha appena dato via Alle ostilità Azione interrotta Dalla difesa del Mazzara Che adesso orchestra Attenzione Il retropassaggio Pericoloso Con l'intervento Il grande intervento Di Giacalone A fermare L'attaccante del Misilmeri Adesso Ospiti che adesso Provano a ripartire da dietro Il lancio sulla destra Per Lavardera Che a campo libero Davanti a sé Entrenare Lavardera Che mette in mezzo L'intervento di Pavisic Che porta in vantaggio Il Misilmeri Quando sul nostro cronometro Siamo al quarto minuto La palla messa in mezzo La torre a prolungare La traiettoria La palla resta lì Poi Cosentino Cosa si è divorato Ricciulli Sulla sinistra Viene messo giù Non c'è fallo Secondo il direttore di gara Poi Lavardera Prova a mettere in mezzo Il colpo di tacco volante Da parte di Matera Per Pavisic Che prova il mancino La palla Che sibila Un passo dal palo La palla sulla sinistra Per Ricciulli Che può puntare l'uomo E può avanzare Nei pressi c'è anche Elamraoui Che viene in qualche modo servita Elamraoui mette in mezzo Per Ricciulli Che prova la conclusione Rimpallata Parte Camara Che mette in mezzo La palla arriva quasi Nella zona di Miali Ma allontana in qualche modo Prova almeno ad allontanare Il Misilmeri Poi Gomez Nobre Controlla in area di rigore Mette in mezzo La palla Una deviazione di mano E calcio di rigore Adesso il fischio dell'arbitro Dà via alla rincorsa Il tiro E la rete La pareggia il Mazzara Arriva adesso Il fischio dell'arbitro Con Romano Che prova a partire col sinistro Anzi la palla è per Pellegrino La botta col sinistro Ed è bravo Matteo Giacalone All'indietro per Bajata Che subisce il pressing Di Matera Non riesce a rinviare Bajata con Matera Che la tiene in campo In qualche modo Matera che mette in mezzo Per Pavisic Colpo di testa alto Ancora Cari Che prova a saltare in velocità Ci riesce un difensore Del Misilmeri Il grande intervento In scivolata Tanto inizia adesso La ripresa Dopo il fischio Del direttore di gara Finita della difesa Del Mazzara Con il Misilmeri Che però Resta in proiezione offensiva Il sinistro di Romano Che finisce di un soffio All'altro Fisico con Pellegrino Che finisce a terra Sarà fallo laterale Per il Mazzara Non c'è Gioco irregolare Da parte dell'attaccante Del Mazzara Poi Ricciulli Prova una conclusione Debole Palla in avanti A cercare Bertoglio Anticipato da Marchese Che finisce a terra Fa continuare l'arbitro Adesso Fischia il fallo Contro il Mazzara A favore del Misilmeri Arriva adesso Un cartellino giallo All'indirizzo Di mister tedesco Parte Lavardera Mette in mezzo La deviazione di Ricciulli La palla resta lì Poi la grande girata Col Mancino di Pellegrino Ancora La ribattuta In rete Da parte di Espasa Quando siamo Al sessantaquattresimo Minuto Il Misilmeri Torna in vantaggio Sull'intervento di Bertoglio Non c'è fallo La palla per Lavardera Che prova il destro Da fuori La palla che Marchese per Elamrau Prova a girarsi Su se stesso Poi serve Marchese Che prova a mettere In mezzo La palla Sfugge a Zumbo Non entra in porta Poi la girata di Cari Cosa è successo Nei pressi della linea Di porta Del Misilmeri Lavardera in avanti Può provare a mettere In mezzo La palla Rivenare di rigore Con Loggerfo Che prova a girarsi Poi la girata Conclusiva Di Matera E la palla Che finisce Alta Ancora la palla In avanti Per il Misilmeri Trello prova Ad allontanare Poi c'è Bari Arriva il triplice Fischio Del direttore di gara Il Mazzara Cade ancora Tra le mura Amiche Il Misilmeri Si impone Al Nino Vaccara Con il risultato Di 2 a 1 I am a 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 b a 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